19.10 ti ho dato forte ti ho dato bene sono proprio contento c'è più nessuno dagli streets arrischio copyright mi bevo la birra ghiaccia che mi spacca i denti stacco tutto e vado a casa 9.30 una cena a quattro occhi di lavoro con una persona capace e a cui voglio bene e con il quale posso fare bene perché il pagliolo va solo che ha aumentato nei momenti difficili di crisi o quantomeno di opportunità ma secondo te sto male? bella per te viva la vita tutta la vita